Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale! Oggi finalmente girerò il video in collaborazione con Alice a cui mando un bacio grande grande e vi lascio naturalmente sotto il link del suo video e il link del suo canale e dico finalmente perché era da un po' che dovevamo girare insieme questo video però fra gli impegni di una e gli impegni di un'altra non abbiamo avuto modo quindi finalmente oggi è arrivato il gran giorno e voglio fare una piccola premessa che ieri ho fatto questo shadow sul viola dal rosso, viola, comunque un colore bellissimo non so se con la luce si vede tanto e volevo ringraziare Antonio per aver avuto la pazienza di farmi i capelli come li volevo io e un bacio grande grande e grazie Anto e ho girato una specie di video fra il primo e il dopo dei capelli però non penso che lo pubblicherò perché non mi piaccio da vedere col colore in testa sono proprio oscena quindi non credo di pubblicarlo comunque iniziamo subito il mio cellulare con le varie domandine scritte allora 10 prodotti, non avete già letto sicuramente dal titolo sono i 10 mai senza di Alice e Daniela quindi iniziamo subito allora il primo prodotto è un prodotto per il viso preferito allora il mio prodotto per il viso preferito in assoluto che non deve mancare mai è la BB cream questa è di brochet, è BB cream per le perfette 6 in 1 allora questo è un mai senza perché posso stare senza la cipria posso stare senza la crema posso stare senza avere tutte quelle cose insieme ma ce le ho tutte chiuse in un unico tubetto ecco in un'unica confezione allora questa di brochet è la mia BB cream preferita fra tutte quelle che ho provato e quelle che sto provando infatti mi sa che è la seconda confezione che compro mi piace molto il colore il colore, l'odore e la colorazione è proprio del mio incarnato di pelle è molto chiaro questa è la light quindi anche quando non voglio mettere il fondotinta o non ho voglia di fare questo che non lavoro di crema, fondotinta, cipria e tutto metto questa e via quindi la amo il secondo prodotto di cui non potrei fare a meno è un prodotto occhi questa già la sapete, questa risposta è la matita nera questo ancora è lo stilo di brochet come sapete ho questo qui iniziato non ve lo swatcho, non ve lo faccio vedere cioè non ve lo faccio vedere ne ho parlato in così tanti video che sarete pure stufi comunque le matite nere in generale questo stilo occhi di brochet lo amo e 3 il prodotto labbra preferito allora il prodotto labbra preferito in assoluto per me è il burro cacao più del rossetto, più del gloss cioè dove si sceglie una cosa sola sceglierei il burro cacao per ora quello che ho iniziato e aperto è questo qui questo qui alla coca cola anche questo l'avete già visto sa proprio di coca cola è del colore della coca cola e quindi questo ma ripeto in generale burro cacao vi faccio vedere quelli che ho aperto naturalmente in questo momento numero 3 prodotto labbra preferito numero 4 prodotto mani preferito allora in assoluto il prodotto mani preferito è lo smalto più della crema perché posso stare con le mani senza la crema perché non soffro di c'è anche il freddo comunque non me le rovina tantissimo e invece è lo smalto per ora vi faccio vedere questo questo era un omagino dal primo ordine di magiaia e questo la marca è in color obsession ora non ve lo so dire ma sicuramente la conoscete e il colore era il 453 dico preferito perché è un rosso anche se sembra più fragola dalla confezione però è un bellissimo rosso e se dovessi scegliere un colore che terrei da tenere sulle mani per sempre comunque sarebbe rosso quindi mai senza lo smalto rosso sulle mani numero 5 prodotto corpo preferito in assoluto il mio prodotto corpo preferito non vi faccio vedere la scatolina di Lush è questo l'I Love Me è un burro corpo che sa di vaniglia c'è proprio un vero pezzettino di cioccolato dentro è buonissimo oddio che bontà e vabbè lo conoscete sicuramente tanti va spalmato sul corpo funge da olio da massaggio da crema corpo da burro corpo un po' da tutto quindi questo poi numero 6 prodotto piedi preferito anche qui più della crema per me i piedi sono curati quando hanno lo smalto sui piedi mi piace lo smalto nero anche rosso perché giustamente mi piace molto abbinarlo alle mani però in generale se devo fare le mani tipo con nail art particolari comunque i piedi mi piace averli con lo smalto nero per ora sto terminando questo qui di cliché la confezione quella piccolina l'avevo preso un euro e il numero è 10 13 11 sono tutti questi numeri qui quindi non lo so comunque smalto nero in assoluto poi numero 7 prodotto capelli preferito allora prodotto capelli preferito non ce l'ho qui presente perché è la crema di Guam che vi avevo recensito e già in un video vi lascio il link sotto nelle info box non ce l'ho qui perché ancora devo prenderla ne ho un'altra da terminare che avevo in casa finita quella ricompro quella perché giuro mai senza mi faceva i capelli morbidissimi lucenti no veramente quindi promossissima quella devo ricomprarla comunque vi lascio il video sotto così vedete di che prodotto sto parlando 7 no era capelli 8 capo di abbigliamento preferito anche qui non vi faccio vedere niente perché comunque il mio capo preferito se dovessi scegliere qualcosa in assoluto è il jeans anche più dei leggings perché il jeans è quattro stagioni e poi non è perché non è perché quattro stagioni in realtà nel senso io magari d'estate il leggings lo utilizzo meno quindi anche per lavorare comunque in generale in tutto utilizzo sempre sempre il jeans certo per comodità per praticità vado sull'eggings soprattutto d'inverno col caldo mi piace più i leggings però se dovessi scegliere un mai senza in generale comunque sceglierei i jeans anche perché ci ricolleghiamo alla numero 9 le scarpe preferite che per me in assoluto su tutte sono le converse ora siccome come sapete io non sono un fuscello di magrezza non potrei mai permettermi i leggings con le converse quindi vado sui jeans queste qua sono tutte sono tutte vecchie ma sono le mie preferite con queste fragoline sono queste qui io le amo tantissimo hanno all'interno tutto rosso tutte a pua sono davvero belle non guardate che sono sporche ma mi dicono che le converse devono essere consumate per essere belle quindi io sono alla modissima non proprio alla moda numero 10 l'accessorio preferito in assoluto l'accessorio che io non tolgo mai o sempre con me è questo che è il mio bracciale pandora anche questo forse l'avete visto in qualche altro video con tutti i charm e ultimamente si è aggiunto anche aspettate che avevo la giacca sopra si è aggiunto anche questo questo qui col cuoricino questo è di Guess me l'ha regalato il mio ragazzo per l'anniversario e mi piace tantissimo anche questo non lo tolgo mai quindi in assoluto sono i bracciali per l'esattezza questi due e niente questi erano i 10 prodotti i miei mai senza sono curiosissima di vedere i 10 mai senza di Alice la ringrazio ancora per questo tag perché l'idea è stata sua e le mando un bacio grandissimo e con voi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao